Molte persone scelgono di tenere i propri gatti dentro casa per paure che questi possano perdersi, ferirsi o che qualcuno li rapisca. La soluzione? Omlet ha creato uno speciale recinto grazie al quale i vostri gatti potranno finalmente godersi la vita all'aperto in modo sicuro e protetto. I recinti progettati da Omlet si distinguono dalla concorrenza per qualità e durata nel tempo. Realizzati in maglia di acciaio, i recinti Omlet combinano sicurezza e stile. I vostri gatti si divertiranno a trasformare la gabbia in un grande parco giochi dove potersi arrampicare, giocare e fare esercizio, oltre ovviamente a rilassarsi e schiacciare un chisolino all'aria aperta. Il recinto è acquistabile in varie misure, una comoda applicazione online vi permetterà di progettare il vostro recinto perfetto prima di acquistarlo. Ogni recinto per gatti da esterno è dotato di una grande porta che rende davvero semplice cambiare acqua e aggiungere cibo e giocattoli per i vostri gatti. Il chiavestallo è resistente e può essere aperto e richiuso sia dall'interno che dall'esterno, in modo da garantire la sicurezza dei vostri amici in qualsiasi momento. Perché non aggiungere un tocco di stile e funzionalità al vostro recinto per esterni? Potete scegliere tra la nostra copertura IB Duty o Clear. Sono prodotte in varie misure in modo da poter essere usati sia singolarmente che in coppia per creare una copertura più ampia e resistente per i vostri gatti. Sia clienti che veterinari hanno elogiato i meriti del nostro recinto per gatti omelette. È la perfetta combinazione di spazio, stile e sicurezza. Ordinatelo oggi!